È una crisi, questo come abbiamo sempre detto, non industriale perché gli ordini ci sono ed è un settore dove il mercato tira, ma è una crisi finanziaria, cioè l'azienda non ha la liquidità per comprare i materiali necessari alla produzione e quindi a soddisfare gli ordini dei clienti. È una fase molto delicata che se perdura vede perdere professionalità interne perché i lavoratori nei momenti di difficoltà, soprattutto più qualificati, cercano altri tipi di sbocchio occupazionale, però si perde un know-how molto importante per l'azienda e dall'altro si rischiano di perdere l'ordine dei clienti che invece oggi ci sono. Quindi è assolutamente fondamentale che arrivi presto un investitore. L'altra cosa di cui abbiamo chiesto garanzia anche al Ministro di lavorare per questo, anche al Ministro Orlando, è che chi arriva voglia mantenere l'occupazione e ponga le basi per mantenere l'occupazione qui in Val d'Arno, cioè che non ci siano delle localizzazioni di sorta, né riduzioni dell'organico che attualmente è impiegato. Ripeto, noi siamo convinti che ci sono le condizioni perché ciò accada, ma siamo nelle mani della proprietà e delle scelte che farà. Per questo noi stiamo adottando tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione per cercare di far sì che presto venga presa una scelta e dia risposte concrete. Giovedì chiederemo conto di qual è lo stato delle trattative da parte dell'attuale proprietà con gli investitori potenzialmente interessati, quali sono i piani di sviluppo rispetto a questa azienda, quali sono le garanzie che gli investitori intendono dare e entro quando prenderanno questa benedetta scelta sull'individuazione dell'investitore perché, ripeto, il tempo per noi è fondamentale, si gioca sulla vita di tantissime persone, sulla vita professionale e lavorativa. Abbiamo sempre detto che fra dipendenti diretti e indotto parliamo di circa 800 persone e in una vallata come la nostra un'incidenza socio-economica importantissima. Ma anche se fossero 10 dipendenti noi dobbiamo lottare perché il lavoro venga preservato nel nostro territorio.